Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV alla rassegna stampa del mattino. Occhio ai giornali, un commento alle pagine che abbiamo selezionato per voi questa mattina nel corso della rassegna che tra poco avrà inizio, non prima però di aver visto il santo e le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Andiamo subito a vedere la santa di oggi, la santa Margherita d'Ungheria. Il sole sorgerà alle 7.39, tramonterà alle 5 di oggi pomeriggio in punto. Allora andiamo a vedere adesso il tempo. Da mercoledì maltempo atlantico in arrivo con pioggia e altra neve. Questa è la copertina di trebimeteo.com, mentre il bollettino della protezione civile delle Marche per oggi prevede un cielo inizialmente nuvoloso con ingresso dal mare di strutture cumuliformi. Poi già dalla mattinata si andrà verso il sereno. Comunque le precipitazioni saranno soprattutto all'inizio, nella primissima mattinata in queste ore. saranno anche nevose fino a quote collinari, localmente anche in pianura staremo a vedere. Addirittura qua la protezione civile mette un po' qualche fiocco sia sulla costa, un po' anche sulla costa, sì, pesarese, anconetana, giù in fondo, ma non lo so. Forse sono state fatte queste previsioni prima del weekend. Allora, martedì invece per la giornata di domani ancora temperature in aumento nei valori massimi, con cielo sereno o poco nuvoloso. Tempo stabile anche per le giornate di mercoledì e giovedì, con probabile peggioramento per il fine settimana. Ma di questo ne parleremo ovviamente nei prossimi giorni. Allora, intanto la questione dei vaccini, si stanno facendo il richiamo, il cosiddetto richiamo, insomma la seconda dose e le persone, soprattutto sanitari, che hanno fatto e si sono sottoposti al primo vaccino. In fotonotizia sulla pagina del Carrino di Pesero, la dottoressa Lambertini, che appunto si è sottoposta già al richiamo del siero Pfizer, la prima immunizzata ancora in copertina oggi. Poi Rossini riapre, anzi il presidente dell'Associazione dei Presidi, quindi si parla di scuola, riaprire le scuole subito, spinge per ritorno sui banchi, troppi ragazzi abbandonano la scuola, questo è un vero problema, una percentuale davvero preoccupante. Poi si accascia a terra dopo cena, un malore fatale, a 46 anni muore l'imprenditore Ruggeri, è una notizia che potrete trovare sulla cronaca di Urbino. Poi casa Aura, un sanitario ogni tre non si vaccina, ragazzino in trasferta fuori regione, multa salata, un ragazzino a Riccione, poi i ristoranti, la protesta della Quinta, fanno noi allo stremo, assalto al Nerone, è un segnale positivo, basta polemiche. Sotto, Vis senza lampi, al Sud Tirol ne basta uno, Basket, VL in cerottata, a Sassa ricrolla nell'ultimo quarto, priva di Delfine Tambone, la squadra di Repegia perde di 25 punti in Sardegna. Il Corriere ritorna in classe, pronti, l'ipotesi del rientro a scuola il prossimo 25 gennaio, trova i presidi pronti, ma solo al 50%, il sindaco si rivolge a Salta Martini, il sindaco di Pesero, con i sierologici che avanzano, testiamo i ragazzi almeno sei volte, insomma fai i conti in tasca Ricci all'assessore alla sanità. Pazienti raddoppiati in intensiva, Berselli, sempre da Pesero, teniamo botta, le marche senza tagli della quota vaccini, questa è una buona notizia, le 10.530 dosi di vaccino Pfizer anti-Covid previste per le marche arriveranno tutte da oggi, sapete che ci sono stati dei tagli annunciati che hanno preoccupato non poco, non solo l'Italia ma l'Europa, le marche invece avranno tutte le dosi già stabilite. Muratori, calvario dei diabetici, mancano i medici, poi a Montellabate entro febbraio accendiamo altre 30 telecamere, a Urbino, Mense, il nuovo regolamento è terra di scontro, qui di taglio basso invece lo sport con una vuela azzoppata, crolla a Sassari, il banco di Sardegna vince 99 a 74, poi il calcio in Serie C, la Visse deve arrendersi al Suttirol, non basta il cuore, 1 a 0 il risultato finale. Acquaroli si dice ottimista invece, sintomatici in calo, il quadro migliora, ha ragione, il governatore Acquaroli scrive questa mattina a Lorenzo Sconocchini sul Corriere e dice, ha ragione nel sottolineare il fatto che ci sono dei casi sintomatici in calo nelle marche, uno dei pilastri su cui si fonda la sua aspettativa di riaprire, poi tra l'altro in anticipo le scuole superiori lunedì prossimo, in caso di conferma di un indice RT sotto quota 1, ma serve ancora un po' di pazienza per capire se il calo degli stati clinici con sintomi evidenziato da 3-4 giorni nel report del Servizio Salute si andrà consolidando come un vero e proprio trend in discesa. Già oggi con l'arrivo dei dati relativi ai tamponi esaminati ieri nei laboratori di virologia si potrà fare un confronto settimana su settimana perché sono sempre più affidabili rispetto ad analisi sfalsate. Dunque la cosa che preoccupa di più è la saturazione con pazienti Covid dei reparti di terapia intensiva che sale dal 36 al 41%, quella dei reparti di area medica che sale dal 50 al 54% e non accenna a calare il numero dei decessi giornalieri, una curva di norma in ritardo di due settimane rispetto a quella dei contagi. ieri purtroppo sono stati registrati altri 11 decessi, 6 uomini, 5 donne tra i 63 e i 99 anni che portano in totale dunque dei decessi nelle Marche a 1.794 persone. Il Carlino, i numeri migliorano, meno sintomatici, il Governatore Coroli dice che la tendenza di questa settimana fa ben sperare, cale il rapporto contagi tamponi dal 29 al 23%, intanto le Marche sono una delle sei regioni senza taglia i vaccini Pfizer. Dunque sul vaccino ecco il Corriere, vaccino Marche fuori dai tagli, oggi arrivano altre 10.500 dosi, somministrazioni quasi all'84%, mentre l'altro vaccino che è il Moderna, per gli anziani delle case di riposo, non necessita di richiamo. rispetto alla Pfizer, il Moderna, sapete, sempre il vaccino americano ha solo una dose, non due come Pfizer. Le 10.000, questa invece è la buona notizia, le 10.530 dosi di vaccino che erano previste per le Marche arriveranno tutte, cosa che invece non arriverà per esempio in Lombardia dove c'è stato un taglio anche notevole di 20.000, mi pare, più di 20.000 dosi che non arriveranno. Questa è la buona dunque notizia. Mentre, sempre restando sul fronte dei vaccini, l'altra pagina del carriere di questa mattina, partendo dalla fotonotizia, Margherita, la prima immunizzata della città, dice lei, ora subito in corsia, fare il medico mi fa bene. La dottoressa Lambertini, volto simbolo di questa guerra al virus, ma anche testimonial della ricerca sulla fibrosi cisti, che racconta la sua missione, dice io dopo il primo richiamo sto bene, nessun problema, come per la prima iniezione, anche dopo la seconda, insomma consideri che stasera poi faccio la notte al pronto soccorso. Cosa cambia in corsia? Dice, chiede domanda Benedetta Iacomucci, appunto la dottoressa, lei risponde alla fine niente, perché non è stato provato che non siamo dei vettori del virus, benché sia verosimile, quindi continuiamo a indossare tutte le protezioni. Ma va giù duro invece ancora il primario di ginecologia Cicoli, Claudio Cicoli, primario di Marche Nord, che ha appena ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer e che dice lui mi sento un privilegiato, è come se mi fossi liberato dalle catene della schiavitù, però ho una sensazione, dice Cicoli, incredibile. La Pfizer mi invierà entro pochi giorni la certificazione della venuta vaccinazione, io sto leggendo invece a incredulo che ci sono ancora 90 sanitari, 90 colleghi, insomma, di Marche Nord, che non si vaccineranno e molti faranno lo stesso all'area vasta. Ora, mi piacerebbe, dice Cicoli, conoscerli perché gli direi, senza tanti giri di parole, che non possono fare questo mestiere e se lo fanno vuol dire che non hanno studiato e rappresentano un pericolo per i pazienti. Insomma, parole forti. Li considero al pari, sentite un po', dei santoni. non meritano di lavorare nella sanità perché sono un pericolo. Chi veste il camice bianco accetta la scienza come stella polare della propria professione, altrimenti si crede nelle erbe di prato e nelle pietre di fiume. Spero che quanto prima mi arrivi la patente vaccinale e possa tornare a viaggiare e andare al cinema e al ristorante. Queste le parole di Claudio Cicoli. A casa Aura, invece, un sanitario su tre non si vaccina. La direttrice parla di una situazione che preoccupa. Tutti i 50 anziani hanno firmato per la somministrazione. Speriamo che l'Asur inizi fin da questa settimana con la prima dose. Al momento non ci sono positivi. Intanto oggi sarà aperta la stanza degli abbracci per far incontrare dopo mesi ospiti e familiari. La Casa di Riposo del Comune non ha positivi i suoi ospiti dopo che molti over 90 sono praticamente guariti. Poi l'altro fronte è quello della scuola. Oltre ai vaccini si parla del ritorno a scuola. Nelle Marche vige ancora un'ordinanza, quella firmata dal Governatore Acquaroli, che le tiene chiuse, le superiori ovviamente, in presenza fino alla fine del mese. Ma da quello che si capisce, lo ha detto anche lo stesso Acquaroli, c'è la possibilità di riaprirle almeno una settimana prima. Ma di questo si parla nelle pagine dei giornali locali di questa mattina. Superiore o che degli esperti si può tornare in classe le presenze addirittura dal 50 al 75%. Il Ministro Speranza ha convocato il CTS per un parere sul rientro a scuola nelle Marche verso la revoca dell'ordinanza che impone la DAD fino al 31. Ora, analizzando un po' quello che è successo in questi ultimi giorni, abbiamo detto, visto, analizzato, e qui a questo punto credo che anche il Comitato Tecnico Scientifico avrà fatto valutazioni un po' più precise, ma non si capisce bene sull'onda delle emotività oppure basandosi semplicemente sui numeri. L'emotività qual è? Negativa sicuramente, perché abbiamo visto tutto quello che è successo nelle varie piazze, c'è gente giovane che cominciano a dar fuori di testa, gente che si organizza sui social, poi va e spacca tutto, si danno le botte senza motivo, insomma, questi giovani cominciano a sbarellare. E quindi cosa succede? Non solo, c'è anche l'aspetto di chi decide di non andare più a scuola, quindi c'è una percentuale, leggevo il 30% degli studenti, che è impressionante, che ha deciso di non tornare a scuola. Quindi la situazione si sta facendo davvero drammatica e non la raccontiamo tutta fino in fondo. E che cosa succede? Adesso, guarda caso, si torna a scuola in presenza, è addirittura il 75%. Quindi, questo sul fronte scolastico. Sul fronte lavorativo, più o meno succederà la stessa cosa, ma ancora è un po' presto, ma arriveremo anche lì. In quattro mesi di lezioni, nelle Marche 174 Focolai, lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità sull'incidenza dei contagi a scuola. Il Covid d'agosto ha circolato maggiormente tra gli studenti di 14-18 anni. C'è questo studio, che è datato 30 dicembre, quindi recentissimo, dove emerge che nella Regione Marche, tra il 31 agosto e il 27 dicembre, sono stati rilevati 174 focolai attivi di probabile origine scolastica. Numero che si accomuna ad un territorio ben più vasto, come la Toscana, ma non tra i più alti d'Italia. E comunque possiamo dire che gli ambienti scolastici sono luoghi abbastanza sicuri. e dobbiamo dire che anche qui c'è una differenza. Un conto è parlare di studenti che fanno le superiori e che già si sentono grandi e quindi spavaldi, che molto spesso non tengono la mascherina soltanto per dimostrare che sono dei supereroi. Invece, poverini bambini delle scuole elementari come dei soldatini che stanno lì fermi, dritti con questa mascherina anche per sei ore del giorno e non battono ciglio e fanno quello che gli viene chiesto. Ecco, sono due aspetti e non a caso questi stanno continuando ad andare a scuola mentre quelli delle superiori che poi è vero devono prendere l'autobus eccetera eccetera ma anche quelli piccolini prendono lo scuolabus e comunque sono un po' più scavestri. Il ritorno in classe al 50% i presidi siamo pronti ma Rossini avverte senza tracciamento del contagio la sicurezza della scuola resta in bilico bisogna accelerare sui vaccini al personale over 45 attendiamo la comunicazione definitiva. Con i sereologici invece sempre sul fronte scolastico qui c'è la presa di posizione di Matteo Ricci sindaco di Pesaro che chiedeva a Saltamartini di testare tutti gli studenti e solo che Saltamartini gli ha risposto no perché non abbiamo il personale non abbiamo insomma manca quasi tutto. In realtà il sindaco Matteo Ricci si dice amareggiato da questa reazione dell'assessore regionale Saltamartini e pallottoliere alla mano lo invita a rifare i calcoli sulla reale disponibilità di test sereologici per effettuare uno screening degli studenti per rendere più sicuro il ritorno in classe anzi 6 oggetto del contendere gli 800.000 test per lo screening sereologico e il loro utilizzo e poi Matteo Ricci fa il calcolo Matteo Ricci che poi ricordo sarà questa sera in diretta su Fano TV dopo il telegiornale a primo cittadino poi ha detto no al vaccino sempre dal Corriere soltanto chi non poteva a Muraglia con il dottor Berselli per seguire il percorso in sicurezza nella Palazzina 3 al di là della prossima consegna noi abbiamo insiero sufficiente a coprire anche i richiami il calvario invece dei diabetici mancano locali e medici un'altra notizia sempre dal Corriere maggioranza e opposizione insieme per far pressione sull'azienda Marche Nord e dicevamo come dicevo appunto poco fa che la protesta si farà sicuramente inevitabilmente se le cose non cambieranno più forte più pressante anche più problematica anche sul fronte dei lavoratori così ci costringono a licenziare questa è la notizia sul Carlino di Fano è uno striscione che è apparso ieri davanti a una trattoria famosissima che è la trattoria La Quinta al porto di Fano striscione di protesta è inutile che ci diano il contentino dell'asporto e dunque qui c'è la notizia che trovate che potrete leggere qui ci sono problemi da mesi dice le nostre attività sono chiuse ma vedo gente ammassata che mangia e gozzoviglia senza controlli e poi sempre sulla pagina del Carlino screening a rilento siamo al 4,47% parliamo dello screening a Colli al Metauro trovati due positivi al virus ieri effettuati 1040 tamponi si abbassa la percentuale dei positivi appello ad aderire oggi domani e mercoledì quindi per coloro che risiedono appunto a Colli al Metauro poi dalla pagina di Fano del Corriere prima accoglienza all'ex Campo Roma struttura completamente rimessa a nuovo e gestita dal Club Mattei nell'area di Ingualchiera vicino all'aeroporto i container ospitano ora chi osserva la quarantena personale sanitario temporaneo dal Santa Croce e poi per i divorziati mentre orario extra per l'asilo senza covid del pomeriggio si riallunga il progetto potrebbe ripartire nell'anno scolastico 2021-22 permanenza fino alle 17.30 l'assessore Mascarina dice riscontri positivi soprattutto nei nido via libera del Consiglio io la Coppa vinta e ora l'una rossa è un'intervista al velista Pizzuto che viva Fano nel 2010 vinse con il team Usca di Oracle mentre sotto poste da riaprire Cartoceto sostegno bipartisan disagi assembramenti raccolta di firme unanime per l'ufficio di Cartoceto mentre la cronaca malore davanti la compagna imprenditore muore a 46 anni Michele Ruggeri si è accasciato improvvisamente a terra subito dopo aver cenato lei ha cercato di rianimarlo poi la corsa in ospedale tutto purtroppo inutile è stramazzato al suolo dopo cena dopo aver accusato un dolore allo stomaco Milere Michele Ruggeri un imprenditore di 46 anni dischieti il tutto sotto gli occhi della compagna la donna ha fatto di tutto per salvarlo ha chiamato l'ambulanza praticandogli anche un massaggio cardiaco assistita e guidata dai medici dell'ospedale di Lecco poi la corsa all'ospedale ma non c'è stato nulla da fare e adesso la pagina 7 del resto del Carlino riflettiamo sull'assedio del Nerone ora è una notizia che è apparsa ieri ieri non eravamo in onda ma un po' sui social qualche cosa è venuto fuori praticamente tantissima gente tantissime persone c'è stato un vero e proprio assalto possiamo definirlo così tantissima gente che a un certo punto ha deciso di salire la vetta del Monte Nerone che in questi giorni in queste ore così come le altre vette è completamente innevata uno spettacolo strepitoso meraviglioso mozzafiato che lascia davvero senza parole il problema però qual è? è che le strade insomma si sono intasate molti sono rimasti anche lassù bloccati certo a guardare il bicchiere mezzo pieno come dice anche il vice sindaco di Apecchio perfetti dice guardiamo la cosa da un punto di vista positivo l'interesse per i luoghi e vabbè a forzare un po' possiamo dire insomma sì siamo contenti chiaramente perché anche quei pochi negozi che ci sono lì a Serravale di Carda lì sotto hanno lavorato e quindi hanno lavorato fino all'orario di chiusura questo è un segnale certamente buono è un segnale positivo così come la voglia di andare a passare un po' di tempo a prendere diciamo un po' d'aria a mille metri di altitudine eccetera eccetera questo è il bicchiere mezzo pieno il bicchiere mezzo vuoto la lascio a voi allora Confartigianato chiede al governo interventi chiari veloci e concreti questa è la fotografia del del direttore generale che parla che chiede appunto al governo interventi chiari veloci e e concreti e questo è importante poi record di contributi per il comune a Monte Labbate entro febbraio 30 nuove telecamere andando avanti da Urbino Mensa nuovo regolamento indigesto PD e Viva Urbino noi non ci ascoltano mai e poi il neorappresentante dei consigli degli studenti dell'università terzo appello e date esami Salvatore Miniti al lavoro prime richieste rettore disponibili uniti miglioriamo poi screening nella Val Cesano un solo comune covid free procede Marche Sicure Serra senza contagi 418 positivi e 620 quarantene a Cattolica a Pesaro Riccione invece trasferta proibita minorenni identificati e sanzionati i carabinieri hanno passato a setaccio piazze e parchi pensate fermati 40 giovanissimi nei guai anche un marignanese quindi la voglia di uscire ma soprattutto il desiderio cioè la voglia di uscire la paura di dover rimanere dentro casa ancora per qualche settimana lanterna blu invece a Senigallia serrande giù chiudiamo per solidarietà il titolare del bar vicini al collega sospeso dice alla cena abusiva anche un consigliere di Fratelli d'Italia spacciava nella caserma dell'hotel sempre a Senigallia arrestato un 51enne che era ai domiciliari nella struttura ricettiva aveva eroina e anche un proiettile siamo allo sport Vis senza lampia su Tirol ne basta uno la Vis che perde 1-0 contro appunto su Tirol poi il Fano che trattiene Barbuti via solo a una condizione il direttore sportivo Traini dice ha un contratto triennale vogliamo tenerlo possiamo cederlo in cambio di uno dei profili che stiamo cercando Fano che ha giocato sabato l'anticipo ora c'è anche lo sport la pallavolo la pallavolo marchigiana che ieri è andata bene soprattutto in Serie A3 con la vigida di Fano che sbriciola il biscottificio Marini ha vinto 3-0 in casa e poi mentre la Lube a corrente alternata Trentola in calza da vicino poi la Med Store di Macerata Dennis Shaw la Med Store Espugna Torino Macerata riscatta il KO contro il Motta di Livenza e Scavalche Piemontesi in classifica 19 punti solo per il Cubano e poi la VL con il basket VL purtroppo che ha perso 99-74 era una missione impossibile ma senza tambone perché è positivo e Delfino con un mal di schiena la Carpegna Prosciutto regge per tre quarti poi schianta fino almeno 25 e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo l'appuntamento con il telegiornale alle 20.30 stasera e poi subito dopo come già detto primo cittadino con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci passate una buona giornata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti